non lo so twitch oggi l'hanno vista seconda vista ammazza no vedi stavano a te giovanni ci stavano dietro non lo fare perché si muore no non lo fare giovanni guarda cosa ho fatto giovanni dimmi dove è vai aiutami a entrare da mentale ok bye bye and land di uno l'ho visto dov'è che hai fatto? non è qua giò ma i voti ma dai bana a posto detto che era ci vado oh mio dio non so dove sia l'ultimo però mi sono fatto quadrupla mamma mia mamma mia dammi 5 giovani dammi 5 che gioca dono che gioca il tritolo dentro il mio piede perché non muori basta non so doveva non so doveva non so doveva Vittoria! Vittoria! Gittardo! Palla di lardo! Oh! Dopo il kill! Dopo il tuo mamma! Triplo! Triplo! Oh! Quattro plus! La partita è finita 2-5 almeno. Mangano i 15 secondi che non lo possiamo fare mai poi. In 16 secondi. Ugg! Lo dico che ho seguito e ho seguito! Ugg! Ma poi non ho seguito più niente. Pum! Ugg! Ma va bene! Goal! Ma avevo fatto un di roppii! Io me lo clip! Viste pure tu che rimanevi senza parole! Senza pa- no rimanevo senza pane! Senza pane! Non mi sento! Si. Pallada Caneste! Ah shit! Ugg! 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 Nooo! oi Grazie a tutti.